Ciao a tutti e benvenuti al design di model-based e validazione della presentazione del model di hybrid. L'estudio del caso del nostro demonstrator è il design di controllo di un engine di aeroporto, modellato come un sistema di hybrid con due modi, ogni consistente di un sistema dinamico di affine. Abbiamo ottenuto un proof di stabilità certificato per questo sistema di hybrid con l'uso di tecniche simboliche. L'estudio principale che usiamo sono le funzioni di Lyapunov, le sintetizziamo numericamente e poi le validiamo a causa dei calcoli simbolici e dei solveri SMT. Usiamo diversi metodi per sintetizzarli e i solveri diversi per validarli e compariamo questi risultati. Ciò che si concentrano sono due obiettivi in particolare. Vogliamo sintetizzare una regione di stabilità certificata per questo sistema di hybrid e vogliamo provare robusta per cambiamenti di valore per questa regione di stabilità certificata. Abbiamo approcato questi due obiettivi con l'uso dell'uso di sabbat che è integrata in un script ad hoc. Se avete più domande, vi ringraziamoci. Grazie per ascoltare. Grazie. 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 Grazie.